Sono stato accusato di aver utilizzato pesi fake, quindi adesso riveliamo quante ripetizioni riesco a fare con 100 kg, però questa volta li contiamo insieme. Allora, abbiamo il bilanciere da 20 kg, un disco da 20 kg e pure l'altro disco da 20 kg. A casa mia questi fanno 100 kg. Ma 19 ripetizioni, praticamente come l'altra volta con i pesi fake, tra l'altro a fine allenamento di petto, ma sarà una casualità? Questo è per gli haters.